sebbene maria de filippi sia tornata al lavoro il dolore per la perdita di maurizio è più vivo che mai lo testimoniano alcuni amici molto vicini a maria che confessano una confidenza che maria gli avrebbe fatto è molto dura senza maurizio però è mio dovere tornare perché maurizio avrebbe voluto così anche se ripeto per me non è per niente facile starei volentieri lontana dalla televisione inoltre una persona molto vicina a lei ha raccontato al settimanale di più che maria sarebbe molto provata e abbia addirittura paura di crollare un pensiero condiviso anche dagli altri colleghi della de filippi che sono molto preoccupati per lei dato che il colpo è stato durissimo d'altronde sono stati insieme per oltre 20 anni ed è quindi normale che la conduttrice di mediaset abbia bisogno di tempo per metabolizzare il lutto prima di oggi è la confidenza resa al settimanale nuovo tv lei non aveva mai fatto tv senza di lui ogni volta che finiva una puntata lei gli telefonava o correva a casa per raccontargli quella o quell'altra cosa che era successa tra di loro c'era un continuo scambio di pareri hanno passato più di 30 anni insieme è una vita una vita che maria ora si appresta ad affrontare da sola iscriviti a cura dietro questo video si 리 поддержita di più per Denizio